Mirko Valdifiori, allora un successo di importanza capitale, ne abbiamo parlato in questi due o tre giorni, nella serata più delicata, probabilmente sotto il profilo psicologico, contro un avversario in grave difficoltà. Ma senza sminuire però l'importanza, ripetiamo, di questo successo, di questa vittoria. Sì, è stato un successo importante di due squadre che appunto avevano cambiato l'allenatore, quindi sai, quando c'è il cambio dell'allenatore anche i giocatori alla fine si sentono responsabili perché siamo noi che andiamo in campo, poi soprattutto perché era un derby. Sappiamo quanto è sentita questa partita qua e quindi volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi in questo momento difficile. L'abbiamo affrontato con la cattiveria e con la determinazione giusta di una squadra che si è resa conto di essere in una posizione di classifica difficile ma che ne vuole uscire il prima possibile. Diciamo che il primo obiettivo del nuovo allenatore è stato quello di rigenerare dal punto di vista mentale la squadra, di rivitalizzarla. Dovrebbe essere scontato quando si parla di uno sport collettivo però forse nel calcio le cose più semplici sono quelle più difficili? Punto di domanda. Sì, sono quelle più difficili perché il mister Breda ci ha trasmesso subito la sua tranquillità ma anche la sua fiducia nei nostri confronti. Ha usato parole magari che ci è entrato dentro. L'altro Mirko Valdifiori è tornato a giocare nel primo minuto nel ruolo più congeniale alle sue caratteristiche. Sì, io ho sempre giocato a tre. Mi metto a disposizione degli allenatori come ero a disposizione di mister Odolo, sono di Breda. Uno cerca di fare quello che ti chiede l'allenatore in campo. Alcune volte ci puoi riuscire bene, alcune volte meno bene. Però quello che non deve mai mancare l'impegno e l'atteggiamento. Penso che venerdì sera la squadra, tutti, chi è entrato, chi era fuori ma anche attorno alla squadra c'era proprio un atteggiamento di un ambiente che vuole tornare a respirare aria pulita dopo magari un inizio di campionato molto difficile. Ti hanno colpito le parole pronunciate a caldo da Cristian Galano? Non so se le hai ascoltate, se le hai poi lette. Che ha detto che abbiamo giocato da squadra? La squadra come mai era capitato in questo primo scorsi? Ma penso sicuramente l'altro giorno è stata una grande risposta di squadra perché si vedeva la corsa in più per il compagno, il voler aiutarsi, l'incitarsi come ho detto anche da fuori perché anche chi sta fuori è molto importante in un'economia di un gruppo e di una squadra. Soltanto cinque allenamenti ha potuto svolgere il nuovo allenatore però insomma si è capito da subito organizzazione e praticità. Magari meno fraseggio, meno possesso da quello che si è visto più ricerca invece della verticalità del gioco? Sì è quello che ci ha chiesto Mr. Breda, gli piace giocare molto in verticale, anche a me personalmente il gioco mi è sempre piaciuto perché gli anni tra virgolette migliori che ho fatto sono stati quelli appunto giocando in verticale con Mr. Sarri. Sì quindi anche il secondo gol che sembrava una semplice ripartenza però era stata una giocata preparata durante la settimana e quindi questo fa piacere perché quando provi le cose sia a livello offensivo che difensivo e te le ritrovi poi in partita che ti dà beneficio ti danno stimolo in più. Abbiamo ancora molto da migliorare, ce lo siamo detti anche il giorno dopo la partita parlando anche col mister però sicuramente il bello è stato appunto questo atteggiamento, questa voglia quando c'è un derby lo devi portare a casa. Assolutamente sono d'accordo con te, tornando al secondo gol, per carità bellissimo l'attacco alla profondità, l'assist di Galano per Setter, il tiro conclusivo, la conclusione finale però due contro cinque non si può mai prendere gol. Ma guarda quello non voglio mai dirlo perché magari un giorno può capitare anche noi che anche noi purtroppo abbiamo avuto un inizio che abbiamo preso molti gol che abbiamo sbagliato quindi non entro in merito, ogni squadra come anche l'Ascoli in questo momento può avere delle difficoltà però anche loro hanno cambiato, noi pensiamo a noi però è stata una ripartenza, i due giocatori Galano e Setter che se stanno bene in questa categoria fanno la differenza. Tra l'altro Mirko abbiamo notato una squadra più cattiva se vogliamo no? E tu sei andato vicino a Rosso lì. Eh sì me l'hanno detto, io non sono un giocatore, magari anche dopo parlavo, ho chiesto scusa c'è anche a Saric, c'è anche l'arbitro, mi ha detto mi conosco, sono un giocatore cattivo, non ho mai avuto un'espulsione diretta. Sì ho fatto un'entrata magari un po' a forbice però anche parlando, rivedendola l'ho preso magari perché quando sono arrivato sono anche mezzo scivolato e sembrata più duro come intervento dalla dinamica. Mi dispiaceva se magari prendevo il rosso e lasciare la squadra in dieci, magari un giocatore della mia esperienza non deve magari neanche creare i presupposti in mezzo al campo però quando sei lì che vivi le partite, le vivi al massimo, un intervento così ci sta, nel senso non gli ho fatto un'entrata da dietro, la fagli male quindi ho preso un po' palle e molta gamba però è andata bene così dai. Voltiamo pagina Mirko, c'è il Vicenza, una squadra fisica anche esperta, c'è qualche giovane interessante tipo Beruato e terzino sinistro della Juve, da riva dell'Atalanta e poi insomma gente che ha calcato ribalte prestigiose come te alludo a Meggiorini che ha ancora il gol nel DNA, ne ha fatto uno bellissimo appunto nella partita pareggiata col Cosenzi. Sì, è una squadra esperta, una squadra che ha un allenatore che prepara molto bene le partite a livello tattico, infatti penso che abbia perso solo due o tre partite quindi una squadra che ha pareggiato molto, che magari prepara la partita sull'avversario, che ha come detto te giustamente in rosa giocatori di esperienza come Meggiorini, come può essere anche Marotta davanti, Rigoni in mezzo al campo, Cinelli, tutti i giocatori che conoscono, hanno giocato in Serie A e conoscono l'attegoria quindi sarà una partita difficile però noi sappiamo che giochiamo in casa, spero che questa vittoria ci dia ancora più autostima su quello che andremo a proporre, la prepareremo cercando di seguire il mister nei dettagli e poi dopo sarà al campo a dire chi avrà la meglio, io sono convinto che se giochiamo con l'atteggiamento dell'altra sera possiamo levarci grandi soddisfazioni perché c'è qualità nella squadra. Pescara ti piace tanto no? Sì, Pescara sì, a me mi piace veramente tanto, anche con la mia famiglia mi trovo molto bene, infatti guarda questo inizio difficile un po' mi era dispiaciuto perché è una piazza che è una città che si vive bene quindi secondo me... Non è che ti sei pentito per un attimo? No, 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 mai pentito guarda, una volta parlavo anche col direttore sportivo Bocchetti che mi ha detto cioè come ti trovi o non ti trovi, magari sei convinto della scelta, sono straconvinto guarda anzi, come ho detto anche il primo giorno c'era anche uno o due altre soluzioni ma Pescara ho detto sì subito perché sia quando ci avevo giocato contro o poi un giorno speriamo di rigiocare allo stadio con i tifosi perché mi era rimasto impresso appunto lo stadio però anche in città, dai si risparmia una bella aria, c'è attaccamento alla squadra, alla maglia e soprattutto sono stati anche molto, mi ricordo anche quando abbiamo avuto un incontro prima del Cittadella, ci hanno dato veramente forza, ci hanno fatto sentire il loro sostegno e per una squadra quando va in male è importante questa cosa quindi anche per loro vogliamo uscire il prima possibile da questo momento.